Guarda la base di Momi, che cos'è Eh vabbè Non so neanche cosa siano tipo questi pacchi regalo Ma sono bellissimi Sono fantastici Rubane uno Sì sì sì, perché ci ha messo in waitlist C'è un problema Che succede? È rientrato Oddio L'ho visto, l'ho visto Io ho ancora l'atelità attaccata alla mia macchina Aspetta che ve lo vedo Devo scappare Scappa È dietro di te e corri E ragazzi, come va? Io sono Fiorinichi Io sono Stef E qui ci giochiamo a Roblox E siamo tornati nella nostra serie di Lumber Tech 1 Questa volta ovviamente andremo ad esplorare la nuova zona Per vedere se troviamo nuovi tipi di legna E finalmente potremo fare anche soldi Lo spero, lo spero, lo spero Proprio voglio i big money su Roblox Li voglio assolutamente Ci siamo un po' di episodi che proviamo a fare i soldi in questa mappa Esatto, quindi Ancora non abbiamo trovato nulla di buono Vediamo se è nella prossima zona Spero che nella nuova zona troveremo tante gioie Lo spero, lo spero, lo spero Tutti hanno parlato di un labirinto Un labirinto dove devi riuscire Ah sì? A completarlo per trovare della legna blu Questo è l'obiettivo mio di oggi Te lo dico già Credo che ci stia pagando un momi Il biglietto per far scendere il ponte Il pedaggio Forza signorino Ci faccia scendere il ponte Il labirinto, scusami Dov'è? Da dove si inizia? Non ho idea Ok, non lo puoi fare Però è oltre il ponte Esatto Esatto Dopo lo troveremo? Esattamente Dobbiamo esplorare un po' questa zona Vedere un po' i tipi di alberi che ci sono E tutte le cose che troveremo Tipo un nuovo negozio qua Ok E da qualche parte troveremo appunto il labirinto Allora prima di tutto nuovi negozi Voglio capire cosa ci danno Questo immediatamente voglio vedere Ok, vediamo quanto Oh vabbè Aspetta le macchine Buongiorno Guarda che bel lavoratore Ha la maglietta di un gattino È ma una ragazza lei Ah sì ragione Tu sei simpatica perché la maglietta col gattino Mi stai già simpatica Oh vabbè Che fighi Allora questo qua è gigantesco e costerà tantissimo Fammi vedere 19.000 Ok E vabbè questo 5.000 eh Ok che non è neanche troppo I semplicemente questi 1.800 E 13.000 Ok Secondo me però questo ti conviene prenderlo Quello più piccolo Prendilo E infatti lo stavo prendendo Perché sicuramente ci possiamo caricare più legna Questo è una figata Lo voglio pure io Per 1.800 Yes grazie Fancy furnishings Secondo me ci saranno altre forniture fighissime Da quello che vedo già da qua fuori No ci sono i letti E l'arredamento per la casa L'arredamento Sì Sì Questi sai come si chiamano? Non furnishing A modernamenti Togliamo modernamenti Che sì Eh vabbè guarda Ci ti potete un po' C'è un punch Allora Letti Gabinetto Cucina qua Guarda la cucina è fatta benissimo È strabella Ma guarda Queste sono le lucine per la casa C'è ma per intenderci Fammi leggere un po' di prezzi va Perché tanto ho già capito Qua ci sono i vari divani Lampade Dai ce n'è parecchia di roba per A modernare la nostra casa Sarà divertente Modernata Esatto È bello questo negozio Infatti mi chiedevo poi dove fossero tutti Tutto l'arredamento per la casa Guarda la sciacchia a momi Non la vedo Perché non vedo le asce Neanche io Ma la vede dal tuo schermo Non si vede Guarda ho trovato un posto strano Scusi Salve È un negozio anche questo Siamo seri E cosa vende? Quanto costa? Voglio la dinamite La voglio 220 Guarda la faccia da furbacchione che ha comunque Guarda Vedi che vende Contrabbanda cose illegali Non è un caso che le vende qua in accosto Non è un caso che poi è vestito così Con quei capelli E con quegli occhieri da sole Oh mio dio Questo è un cestino Di vermi Non so cosa ci dovrebbe servire E poi perché costa 3.200 Dobbiamo tagliare un albero Metterlo qua Arrampicarci Salire qui sopra E andare nella zona Cioè Bellissimo Io me lo ricordavo che infatti era complicato raggiungerci Vedi che non era neanche semplice da vedere Perché in effetti devi trovare questo posto Non era colpa mia allora Olè Ok Adesso lo prendi E lo metti lì sotto E non ci arrampicchiamo Eh ma Cosa tantissimo Non riesco a muoverlo Ce la facciamo in due Prova No Ti hai fatto buio nel frattempo Sto riuscendo a capire Vorrei capire come avevi fatto tu la scorsa volta sinceramente No io ero sempre con Momi Avevo fatto tutto lui Ok Quindi se non lo sa rifare è colpa sua Capita Allora Vedi piano piano ce la sto facendo Ho scoperto tutta una tecnica super incredibile E ci siamo quasi Concentrate calmo Ce la puoi fare Crediamo in te Ok Che dici Oddio Oddio Forse sì Potrebbe andar bene Prova Sì Prova 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 Sì 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 Ce la sto facendo Ce la sto facendo Conviene andare qui Qui Sì Io non ce la faccio Perché sono così scarsa Sei stato bravissimo Grazie Bravo 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 Una faticaccia incredibile Il mio dubbio Ok Adesso che noi andiamo a tagliare la legna Ma poi già dobbiamo portare a piedi Sì esatto Mamma mia Che fatica Sì è molto fatica Per dei pezzetti di legna Oh Qui sì che si ragiona Ma che cos'è questo posto È un posto super disastrato Ma è acqua Lo spero Altrimenti moriamo Sì ma col fumo che esce vuol dire che è acqua bollente Vediamo se Momi ci va Sembra di sì Ok Ok Sì non subiamo danni Non è acqua Sembra più del terreno bruciato Capito Ah Non è acqua Hai ragione Hai ragione Non è acqua Infatti guarda Guarda lo zombie wood Che sarebbe questo infatti il legno bruciato Questo è lo verde Sì questo verde è lo zombie wood Che strano Che strano Poi tutto ho caricato in terra L'hai vista com'è strano Stranissimo Che strano L'altro Momi dice che è il gold Questo Ma fa schifo Può essere gold Non è gold questa roba Un po' più giallo Un po' più Un po' più sbrillucicante Sbrillucicante Con un po' di Capito E invece no Ok prendiamoci un pezzo di Albero di zombie a testa No però aspetta 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 Dividiamo Uno prende il zombie Uno prende il gold Ah ok Per vedere quanto vanno Io prendo lo zombie Mi piace di più Mettimi white list Che puoi ho paura di non dare Di non potertelo dare Ok aspetta un attimo Risolvi un po' di cose Ti prego Allora menu White list Ferenichi Perfetto Allora Dobbiamo camminare tantissimo Aiuto Puoi arrivare al camion Mettelo nel camion Col camion fare il viaggio Tornare indietro Pagare per il ponte Passare tramite il ponte Arrivare alla nostra base Tagliare la legna Raffinare la legna Vendere la legna Facile Wow Vediamo quanto costa Non lo so neanche io Cento Ma è vestito tutto d'oro Questo disgraziato Guardalo Sì è l'amico di Tom E l'hai vista il segno Degli illuminati in basso a destra Oh mamma mia Nascosto dietro al bancone In modo che non tutti lo vedano Della serie Per gli illuminati è gratis Sì esatto Non è una bella cosa Non è una bella cosa Se ne sono appropriati E poi sono fissati su Roblox Gli illuminati È vero Lo trovo ovunque È vero Li mettono davvero ovunque Non è un buon segno Ripeto Non è un buon segno Guarda la base di Momi Che cos'è Eh vabbè Guarda Eh vabbè Non so neanche cosa siano Tipo questi pacchi regalo Ma sono bellissimi Sono fantastici Lo so Rubane uno Sì 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 Perché ci ha messo in waitlist Open gift No no ma devi rubarlo Ma che puoi aprire Ce lo portiamo a casa E poi li apriamo Ma li sto aprendo No prendine solo uno Prendine uno Aspetta Cos'è questa cosa Io ne voglio uno di questi Ok vai Ma che regali sono Vai due Io prendo anche questo qua Che piccolino Ok andiamo 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 veloce Prima che torni Che cosa fanno Veloce Stiamo derubando No è un legno Questo è il regalo pure Questa è la nostra punizione Esatto è il karma Per aver rubato i regali a Momi Dobbiamo muoverci prima che torni Siamo persone Sta per arrivare Ma hai perso una ruota No Dai no Come torniamo a casa adesso Ascolta vai lì Posiziona quello che puoi in base Fai responare il veicolo Il veicolo e vieni a prendere Ok Perché è troppa la strada da fare a piedi Allora Ah dannazione Veloci Prima che arrivi Veloce dai Allora giù Giù Guarda la ruota Io apro questo Ok Quello è il tuo vai Che cos'è Aspetta La posso aprire È una uscia bellissima La candy No Mi ho rubato una cosa troppo bella È bellissima Mi sento in colpa Nascondiamola Esatto Bisogna fare così Nascondere la prova Vediamo cosa c'è negli altri Questo è mio Cos'è? Ma Cos'è? Ma cosa me ne dovrei fare? Ascolta Mettilo su un Eh Lì sopra Tipo Ecco È una forchetta Per la cucina Che ti comprerai Perché ti trovi Un'ascia bellissima Perché secondo me Era in quel pacchetto E io trovo una testa È una forchetta Non è un'altra No No dammela Non ci provare Rendimela Rappo Rendimela L'ho trovata io Ormai è mia Rendimela Ormai è mia Rendimela Mi stai facendo arrabbiare Vieni qua Arrenditi Vieni qua E non ci provare Poi è rosa Ok Quindi se è rosa Fa me Fammela provare Io sono albero E poi te la restituisco Va bene Non so se si può Ah sì Ora la puoi usare L'è buttata Perché? Prova tu? Non capisco Vai Te l'ho detto Che la butta No nascondila Nascondila Cavolo Ti copro Ti copro Ok E mamma vede la testa E la forchetta Tranquilla Quindi Niente di notte Guarda Adesso sono la prima cosa Che dice Eccomi Eccomi Ciao mammi Tutto bene Noi stavamo Stavamo tagliando Questa legna Per venderla Guarda che bravi Mentre ci momiglia A lavorare Torno nella sua base E apro qualche altro regalo Tu distrailo Mi raccomando Io sono qui Che non desto sospetti Perché continuo a lavorare Ah cerca di prendere Quelli grandi Perché lì ti prendi Capito Sì 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 La candy cane Secondo me Allora Avvisami se se ne va O se si accorge Che non ci sono più Ok Ok Io faccio tutto il giro In modo tale Che non mi veda passare Col camioncino E inizio ad aprire i regali Come se non ci fossero domani Allora per ora è fermo Aspetta Mi sta facendo paura Sta per scrivere qualcosa No sta scaricando la legna Ok Perfetto 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 Sono arrivato Sono arrivato Ah è vero che c'è questo gigante Guarda Ma quello è ancora più grande Per questo si arrabbia tantissimo Direi Guardalo Lo rubo Vai Vado Che cos'è? Cosa hai trovato? È un Un cubo È un pezzo di casa Guarda se lo puoi aprire Open box Ogni volta che lo apro Cambia colore Diventa più piccolo È scomparso L'ho spercata Vabbè era un cubo un po' inutile Allora Apriamo questo invece Oh Dove trova? Oh la slitta Ho trovato una slitta E te la metti dietro nella macchina Non hai capito Cioè quando rivedrà questo video Ci odierà Perché lui adesso è ignaro Un'altra slitta E anzi lui Ho preso una slitta anche per te Una non bastava Mettimela in base Esatto Sì le devo nascondere nella tua base Perché nella mia lì verrebbe subito Esatto E ti sono dicendo Che lui è entrato qua per aiutarci oggi E non gli stiamo facendo questo Sto facendo tutto il giro Aspetta È fermo Quindi ho paura che ti noti No no tranquilla Ci ho appena scritto Volete una slitta Ci penso io No grazie Non ci Piazzano le slitte E poi dopo andiamo in giro con la slitta È andata nella mia base Hai nascosto tutto Sì sì Lì nel camion Vedi in fondo Non si nota da qua Allora io ci vado un attimo No no non andare Non andare Ah perché spero ho capito Esatto Io ti ho messo anche Anche così Ma sono così carini Si attaccano dietro la macchina Lo sappiamo Grazie Adesso come ti attacchi questo Perché ci ho messo la legna pure qua Guarda Eh sì perché pesa troppo Esatto esatto Leviamo Ok Secondo me ti è messo Io vi so scomparire tutto Oppure tu No Solo tu l'hai visto Come vai Dici una cosa E che è successo Non sono finito Sotto la mappa Col mio camion Avendo perso tutta la legna Io te l'ho detto che oggi Il level di bug Era al 90% Infatti Ho avuto ragione Ma mi ci ha prestato il suo furgone Andiamo a vendere tutto Così finalmente scopriremo E vediamo Allora Scopriremo tutto Allora 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 Facciamo un pezzo alla volta Quindi per ora non fare nulla Pezzo dorato Pezzo è abbastanza piccolo Ok Da 5760 Vediamo A 5920 Ok Pezzo verde è abbastanza piccolo Da 5920 A 6035 Quindi il dorato mi sembra che valga un po' di più Anche a me sembra che valga un po' di più Sì Poi Sì 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 Vabbè dai Iniziamo a caricare tutto 6000 9000 Quindi un pochettino Più di 3000 Dai Almeno Decente Diciamo così Almeno ha senso Ascolta andiamo nella mia base Anna ma ci segue Come facciamo ad aprire la slitta Senza che non se ne accorga Non lo so Perché ormai la facciamo vedere la slitta Allora Si serve un piano 10 Riesci A Prenderci un Pezzetto di birch Al volo Vediamo 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 Yep Andiamo Grazie a caricino Ok Aspetta che vada Ok Ok vai Ok Andiamo 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 Quando riguarderà questo video Ci bloccherà da Roblox Capito Eliminerà qualsiasi contatto con noi Io me lo sento Me lo sento Allora Ok Ho davvero paura di quando guarderà sto video Sposta il furgone Sposta il furgone Perché la devo mettere qui dietro Dai è finita Dai è finita È scomparsa Mi sa di sì No lasciamela Dai Hai già il carretto dietro Dammela Prego Non riesco ad aprirla Open box No Allora aspetta Aspetta L'hai aperta? Sì Aspetta Dove stai andando? Indovina A prenderlo là Sì Non rimango senza slitta Aspetta ce l'ho No me l'ha posizionata a storta È difficilissimo metterla È peggio di quel carrettino Guarda eh No ho aperto una cosa per sbaglio Ok questa era Move Aspetta Perché non si muove? È l'occhi che sta per rientrare Non ci vuole molto a prendere un pezzo di beach No assolutamente Avrei dovuto chiedere un pezzo di lava forse Dai vabbè poverino Ma che l'uomo di mezzo alla montagna È scomparso È di nuovo scomparso Ho provato a toglierlo dal furgone ed è scomparso di nuovo il regalo C'è un problema Che succede? È rientrato? Oddio L'ho visto L'ho visto Io ho ancora la slitta attaccata alla mia macchina Aspetta che Devo scappare Scappa Scappa È dietro di te e corri Ok 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 Stavendo verso la mia base Secondo me ho già visto la slitta No secondo me ancora non hanno notato nulla È tutto a posto Ha detto Oh la slitta Adolazione Mi ha scoperto No ho visto la mia Ce l'ho ancora attaccata No Visto il veicolo Cioè guardala Si vede fino a qui Non ci credo Oh no Non è possibile Ma dove lì? In un negozio Non si prendono il negozio Al ponte Non so perché Le vendono ancora Io le ho ancora impacchettate nel regalo Che figo Spostami un po' il furgone di momi Che devo piazzare la mia slitta Aspettate vengo subito Ho paura che stia tornando un attimo alla sua base Se torno alla sua base Siamo fregati Cioè noterà tutti i regali tolti Certo Guarda siccome mi piace il rischio Guardami Ole Che cosa ho fatto? Ho messo la candy cane Ole No 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 Dobbiamo staccare Facciamo veloce l'altro prima che se ne accorga Dobbiamo uscire E chi si è visto si è visto Perché è capito il disastro Se non ti faccio aperti Ci vediamo così per questo video ragazzi Ci vediamo domani Speriamo che vi sia piaciuto